2, 2, 3 Ok ragazzi Vi lascio nel video Guardate tutto il video fino alla fine perché anche questa volta ci sono delle cose gravi e importanti Doveva essere un semplice video delle domande sul film come un gatto intangenziale che poi ora faremo lo stesso Vi lascio al video, guardatelo fino alla fine e basta Ok Prossima domanda Quando uscirà il film? Io uscirò Chi è? No colleriti Dai eh Che vuol dire? Pronto? Sotto al ponte Chi sei? Lo sa chi stava Oddio ma Attaccato? Sì No Adesso mi sta poco No Mi ricomincia sta storia Dai Frank Sarà Alberto Massimo Boss Ci hai chiamato? No Vabbè Dai Dai Sta pure con te Fai vedere chi ha chiamato Dai vai lì Carletto Fon Simone No 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 Un attimo Stavamo 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 Un attimo Al ponte Non lo so C'è arrivata la chiamata sera No No Francesca No Lo sto scherzando Non mi piaceci a Toria Non andate subito dentro Corri si fuori Corri Si sta cazzato male Eh si Corri però Si ma il ponte è qua Si ma la rotto le palline E' sempre colpa di valido Ancora Mori Mori Oh 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 Ancora Eh Questa Per Ok Mi prego Pia la targa Non è che è quello Non è quello del video Non lo so Salvati un attimo la targa Ma Simone è il camion del video questo No, non lo so Aspetta un attimo È quello del video Simone Ma io che ho fatto la targa Ma l'unica cosa bene è che passano le macchine ancora a quest'ora Non c'è niente No, non c'è niente Questo è il ponte, qui non c'è niente Che c'è scritto? No, niente Spartak, Kaga, Sotto Quelli siamo noi Io riavrei a casa e mia mamma è pure a me Infatti Prega un attimo se vai Io manco Ma non c'è scritto niente Non era nei piani La polizia Dobbiamo incontrarci Mi sei che l'era l'u... No, non c'è Oh, oh, corri Adesso 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 Non so se stamattina avete visto il video di Andre Dove chiama la polizia Poi ve l'avevamo anche anticipato nel precedente video Che sarebbe successo Che noi Che fosse la pure chiamata nel nostro video Quindi L'abbiamo detto Cioè abbiamo Come si dice Lo sapevo L'abbiamo comunicato questa cosa E ci arriva questa chiamata sconosciuta Che io Io direi Non so possiamo E poi vi ha detto ci incontreremo presto No ma a parte gli scherzi Raga è una cosa Che sta sfuggendo un po' di mano Per questo Vabbè Per questo video è tutto Vedete il video di Andre Se non l'avete visto Girate un po' pure da Sergio Che vede cosa sta succedendo pure da lui Cioè lui sa anche dove abitiamo A quanto pare Il ponte La cosa del ponte lo diciamo sempre Che ti incontriamo al ponte Quindi Ciao 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 Grazie a tutti.